L'unico neo, l'assenza del pubblico sugli spalti del Miramare, altrimenti sarebbe stata davvero una festa completa, un meraviglioso pomeriggio di calcio e di sorrisi per i sostenitori del Manfredonia. Resta però la gioia per una vittoria pesantissima che vale oro per la classifica e nell'economia complessiva della stagione vale tanto il 2-0 casalingo, inflitto alla Paganese, una delle squadre più organizzate della categoria, ed ostiche da affrontare. L'ha sbloccata nel primo tempo il più giovane di tutti, Daniele Balba, il gioiellino del 2006, tra l'altro convocato nella rappresentativa della LND per la Via Reggio K, l'ha chiusa dalla ripresa il solito Mirko Giacobbe, sempre più determinante nei meccanismi e negli schemi di Franco Cinque. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato perché loro sono una squadra importante da andare a prendere, come si suol dire in gergo, perché se non sei attento dal punto di vista tattico loro ti fanno veramente male, perché hanno dei concetti di gioco importanti, il loro allenatore lo conosco, fa muovere la squadra e trova sempre il varco giusto dal punto di vista tattico. Siamo stati bravi a avere un atteggiamento nel primo e anche nel secondo e abbiamo portato meritatamente a casa questa vittoria che per noi è fondamentale. Effetti benefici in classifica per il ritorno al successo del Manfredone dopo la sconfitta con il Fasano e il pari Beffardo di Angri. Ora sono 28 i punti dei Sipontini, 5 in più sulla zona rossa della classifica, margine di certo non rassicurante ma che comincia a diventare davvero significativo. Più che i numeri però fa bel sperare i sostenitori del Manfredone all'atteggiamento della squadra. Anche chi è stato utilizzato meno e chi è arrivato la scorsa settimana come il 2004 del Luca riesce ad inserirsi bene nei meccanismi. Non è facile arrivare tre allenamenti e fare una prestazione del genere come pure Luca Orlando finché è stato in campo un'ora ha fatto benissimo per cui questo è lo spirito. Chi ha giocato meno non si è visto ed è integrato nel nostro progetto che è quello di salvarsi. Sosta e poi un poker determinante nei giochi salvezza, Santa Maria Cilento in trasferta alla ripresa prevista per domenica 18 febbraio, poi Gallipoli in casa, Barletta con la valigia da viaggio e Bitonto al Miramare quartetto in cui in Manfredonia si gioca una buona fetta di permanenza.